Benvenuti in Formezza Pia. Operiamo per migliorare la pubblica amministrazione e offrire un servizio sempre più moderno ai cittadini italiani. Con passione e professionalità ci occupiamo di consulenza e formazione per le amministrazioni pubbliche con corsi pubblici. In un anno dopo il blocco della pandemia abbiamo organizzato 119 concorsi, gestendo 1.200.000 candidature per oltre 38.000 posti. Supportiamo le amministrazioni anche con progetti di consulenza in ambito di formazione, performance, semplificazione, innovazione tecnologica, comunicazione. Da quasi 60 anni Formezza Pia accompagna l'Italia nel proprio futuro. Rafforziamo la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per fornire a cittadini e imprese servizi più snelli ed efficienti. Nell'ultimi tre anni il volume di attività dell'istituto è quasi triplicato. Grazie all'impulso del Dipartimento della Funzione Pubblica, Formezza Pia continua a crescere e sarà il principale strumento a servizio del Paese per realizzare le grandi sfide della trasformazione digitale, amministrativa e ambientale. Su tutto il territorio siamo al fianco delle pubbliche amministrazioni a sostegno del cambiamento. Formezza Pia, sempre un passo avanti. Buongiorno a tutti, io sono Domenico Bonaventura della Direzione Comunicazione Istituzionale e Relazione con l'IPA di Formez Pia e vi do il benvenuto al quarto webinar, come vediamo dal slide in sovrimpressione, di approfondimento del rapporto Formez 2022. Il titolo dell'appuntamento di oggi è a selezionare le persone per la pubblica amministrazione e a intervenire oggi saranno Vincenzo Testa per primo, che è direttore del Centro Studi e Attività Internazionali di Formez Pia, Marilena De Vincentis, direttrice affari legali di Formez, Vanessa Bosdari e Daniele Ferretti, che fanno parte appunto del Centro Studi e Attività Internazionali di Formez, che hanno coordinato e redatto il rapporto stesso. Questo rapporto che, lo ricordiamo, è stato presentato lo scorso 2 febbraio presso la sede dell'Associazione Nazionale della Stampa Estera a Roma alla presenza dei vertici dell'Istituto. Vando alle introduzioni eccessivamente lunghe, io darei subito la parola a Vincenzo Testa, che tratteggerà un po' i contorni, il contesto all'interno del quale si muove e si sviluppano i dati, i numeri, che il rapporto Formez Pia ha sviscerato in maniera così abbondante. Dunque, la parola va subito a Vincenzo Testa. Vai Vincenzo. Grazie, buongiorno a tutti. Siamo a quest'ultimo appuntamento degli incontri di approfondimento del rapporto annuale. Siamo a delineare un quadro finale di sintesi, un po' per capire anche in seguito alle... Pronto? Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Siamo riuniti in questa nuova e ultima... Scusate, Vincenzo, devi attivare la web. Pronto? Ecco. Buongiorno a tutti. Eccomi qua di nuovo con quest'ultimo appuntamento. Facciamo un po' il punto della situazione su quelli che sono stati i risultati dell'analisi dei dati del nostro rapporto, un po' per delineare un quadro del mercato del lavoro pubblico che esce dai dati che oltre dieci anni di gestione delle procedure concorsuali di Formez ci hanno consentito di realizzare. Ricomincio da una slide che per chi ha seguito gli altri appuntamenti è abbastanza nota, abbiamo sostanzialmente, e che abbiamo visto soprattutto l'ultima volta, e che questa slide ci mostra dei dati per cui sostanzialmente nel corso di questi dieci anni Formez ha realizzato tra il 70 e l'80% della sua attività complessiva nell'ultimo anno e mezzo, dal 2021, o meglio, ancora di più, da maggio del 2021, con la ripresa delle attività concorsuali dopo la pausa forzata del Covid, attraverso che cosa? Attraverso le attività che sono state generate con la semplificazione che è avvenuta con il DL44 del ministro Brunetta. Che numeri sono stati fatti? Numeri molto grossi, 257 procedure concorsuali per 124 bandi, circa 40.000 posti messi a concorso. Ma perché questa cosa è stata possibile? Noi crediamo che è stata possibile proprio in virtù di questa semplificazione delle procedure, che non ha riguardato solamente la tipologia di prova, la possibilità di fare una sola prova con o senza anche la valutazione dei titoli, ma ha consentito anche la digitalizzazione e la delocalizzazione delle procedure concorsuali. Quindi l'insieme di questi interventi normativi hanno, diciamo così, inciso su tempi, numero dei candidati, legittimità della procedura, o meglio, sulla percezione della legittimità della procedura, che con dei procedimenti concorsuali di tipo digitalizzato hanno consentito di realizzare procedure anche contestualmente con numeri molto elevati che abbiamo visto. Ma che tipo, diciamo, di domanda di lavoro pubblico le amministrazioni hanno fatto in quest'ultimo anno e mezzo? Sostanzialmente assistiamo a una elevata frammentazione della domanda degli enti locali, che hanno sicuramente, in relazione alle loro caratteristiche, adottato molti più bandi, a differenza delle amministrazioni centrali per cui, per le quali il principio del concorso unico ha consentito di realizzare un minor numero di bandi, ma con più posti e un maggior numero di profili. Anche la tipologia dei posti messi a bando è molto eterogenea, nel senso che mentre le amministrazioni centrali si sono orientati per contratti di lavoro a tempo determinato, puoi vedere chiaramente anche in relazione ai fabbisogni del PNR, gli enti locali invece hanno probabilmente avuto l'obiettivo di ricostituire, diciamo così, la provvista di personale che il grande periodo di blocco del turnover aveva generato. La tipologia dei posti, tre quarti dei posti messi a bando hanno riguardato funzionari, è soltanto una piccolissima percentuale, le categorie giuridiche più basse, assimilabili a quelle degli operatori. Quindi sostanzialmente lo sblocco del turnover e il fabbisogno determinato, determinati dal PNRR, hanno prodotto un'elevatissima domanda di lavoro pubblico che, diciamo così, probabilmente è risultata eccessiva rispetto all'offerta del lavoro disponibile. E quindi questa situazione in alcuni casi, rispetto a quanto eravamo abituati, ci ha fatto verificare in alcuni casi la presenza di un'insufficienza di candidati idoni rispetto ai posti banditi. In particolare in queste situazioni ci hanno consentito di individuare una correlazione probabilmente tra l'efficacia del concorso e la natura del profilo ricercato. Ma questa situazione di contesto si porta a dire una serie di evidenze che a fronte di selezioni sempre maggiori, in conseguenza di questi fabbisogni aggiuntivi di lo sblocco del turnover e del PNRR, ha consentito ai candidati di provare a perseguire sentieri diversi. Quindi anche più candidature, abbiamo il fenomeno delle pluricandidature e chiaramente, conseguentemente, il fenomeno delle pluridonetà. Ora, tra i nostri dati abbiamo visto che per i candidati ai bandi del 2021 e del 2022 addirittura oltre il 40% hanno partecipato a più di due bandi, ad almeno due bandi. Ci sono alcuni campioni, 1.400 o oltre candidati, che hanno partecipato a oltre dieci bandi. Chiaramente, questa circostanza aumenta la possibilità di risultare idoneo e il 26% dei idonei dei nostri concorsi è risultato di aver superato più di un concorso. Quindi vuol dire che tra tutti i vincitori, tutti gli idonei, un quarto ha avuto la possibilità, risultando vincitore di più concorsi, di effettuare una scelta rispetto alla posizione lavorativa messa a bando dalle varie amministrazioni e quindi anche questa situazione è stata oggetto di analisi e ha consentito di verificare, diciamo così, anche che tipo di scelta i plurivincitori abbiano fatto laddove avessero optato per un concorso sempre gestito da Formez PA. In questo caso sono risultati, diciamo sì, più appetiti, i concorsi unici di più amministrazioni e addirittura laddove ci fossero concorsi multiprofilo, addirittura ci sono stati molti casi in cui i profili hanno cannibalizzato profili omologhi all'interno dello stesso bando. Rispetto a questa situazione, quali sono le caratteristiche dell'offerta di lavoro? Cioè, chi si è candidato? Che tipo di livello di istruzione possedeva? Sicuramente la correlazione tra il livello di istruzione e la possibilità di vittoria ai concorsi è risultato confermato. Il 61% dei candidati aveva dichiarato di possedere una laurea magistrale o specialistica, però attenzione, ben l'85% dei vincitori è risultato possederla. Quindi vuol dire che, diciamo così, la specializzazione rispetto alle competenze possedute risulta un parametro vincente rispetto agli esiti del concorso. Che tipo di competenze in particolare prevalgono? Quelle in ambito giuridico. Il 43% dei candidati è in possesso di una laurea in ambito giuridico e tale percentuale arriva al 60% tra i vincitori. E anche qui, come vedremo negli interventi che seguiranno, questa cosa è molto significativa rispetto al tipo, diciamo così, di competenze che vengono ricercate e verificate all'interno delle prove stesse. Rispetto a questa, diciamo così, particolare attenzione ai candidati con competenze giuridiche e alla loro possibilità di vittoria rispetto ai concorsi, al contempo ritroviamo invece una grossissima difficoltà a individuare e trovare profili professionali tecnici particolarmente specializzati o emergenti, per cui in molti casi si è registrato un deficit di copertura dei posti banditi. Questo chiaramente non è un caso anomalo dal nostro punto di vista. Basti pensare che il concorso per la magistratura, l'ultimo che si è svolto qualche settimana fa, ha visto, diciamo così, coperti solamente un quarto dei posti messi a bando per questa professione. Abbiamo notato che, diciamo così, per questo tipo di candidati particolarmente qualificati esiste una correlazione tra la provenienza geografica e l'attrattività del pubblico impiego. Nel senso che, diciamo così, questa correlazione non è di tipo simmetrico ma è asimmetrica e quindi fondamentalmente abbiamo individuato, siamo andati a studiare il tipo di effetti che la provenienza geografica dei candidati ha portato sugli esiti della procedura concorsuale e sull'efficacia dei concorsi con sedi territoriali. A questo proposito ricordo che solamente l'11,6% dei candidati risiedono nelle regioni settentrionali e quindi in questo caso l'esito di questi studi ha consentito di mettere in evidenza che sicuramente i candidati che prevalgono dalle regioni centro-meridionali hanno un maggior interesse, tanto più se sono qualificati all'impego pubblico rispetto ai candidati che provengono dalle regioni settentrionali. Ma queste tematiche verranno approfondite successivamente, quindi io mi taccio e lascio di nuovo la parola a Domenico. Grazie. Grazie a Vincenzo Testa che ci ha fatto un'istantanea un po' del contesto all'interno del quale si muove e si è mosso il centro studi per la realizzazione del rapporto Formez 2022. Come diceva Vincenzo stesso, probabilmente il tratto distintivo da un anno e mezzo a questa parte, quindi parliamo di dopo del periodo post-pandemico chiaramente, riguarda l'introduzione della digitalizzazione all'interno dei processi e delle procedure concursuali, un dato di cui abbiamo discusso già nel precedente webinar e di cui adesso cerchiamo di approfondire un po' le conseguenze e le conseguenze che probabilmente non ci sono state, o meglio che sono state probabilmente diminuite o se non quasi completamente abbattute. A questo punto io do la parola a Marilena De Vincentis, direttrice degli affari legali di Formez PA, che ci parla proprio del lato ovviamente legale relativo alle parti relative ai contenziosi, che proprio con la digitalizzazione paiono essere calati. La parola quindi a Marilena De Vincentis. Grazie e buongiorno a tutti. L'argomento che adesso andiamo a trattare è una ditatura appunto di carattere legale, ma vediamo in particolare come la digitalizzazione, quindi il passaggio dalla modalità analogica alla modalità digitale, ha di fatto influenzato e come ha influenzato ha inciso nel contenzioso. Devo precisare che i dati da cui abbiamo effettuato queste riflessioni sono dati che attengono all'esperienza del Formez, ossia a quei contenziosi per i quali il Formez ha curato la difesa e per i quali è risultato parte. Tutte delle procedure concorsuali che il Formez ha portato avanti e ha realizzato. Quindi non vuole essere un dato generale valido per tutti i casi di contenzioso, ma sono relativi appunto a quello che è stata l'esperienza Formez. Sono osservazioni e considerazioni che hanno preso in esami i dati sino al 31 dicembre 2022. Abbiamo notato che andando a fare un monitoraggio del contenzioso negli anni abbiamo visto come nella verifica dei motivi oggetto di ricorso gli stessi si siano modificati nel tempo e il passaggio appunto dalla modalità analogica alla modalità digitale ha posto in evidenza questa trasformazione per quanto riguarda in particolare un argomento che nella modalità analogica era uno dei motivi ricorrenti appunto nei vari ricorsi e si tratta della violazione della regola dell'anonimato. Questo motivo di ricorso era appunto molto frequente nelle procedure con le modalità analogiche. Vediamo perché, intanto che cos'è il principio della regola dell'anonimato. La regola è un principio fondamentale unitamente all'imparzialità e alla contestualità della selezione pubblica. Questi sono principi che rappresentano proprio i capisaldi dell'azione amministrativa in materia concorsuale. Il rispetto della regola dell'anonimato va inteso proprio come elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario e a che le procedure selettive siano svolte con modalità assolutamente imparziali e che possano garantire la par condicio dei partecipanti. E quindi il compito della pubblica amministrazione è quello di garantire l'osservanza di tale regola e ponendo in essere tutti quei principi e tutti quegli atti che possono impedire qualunque inquinamento, qualunque sospetto di mancanza di imparzialità. Imparzialità che è fondamentale ed è uno che si raccorda con il principio di uguaglianza e secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato la regola dell'anonimato è appunto il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Quindi cosa succedeva nella modalità analogica? Vi erano, potevano essere diversi punti di contatto anche se vogliamo fisico tra i partecipanti e gli addetti ai servizi quindi nel ritiro degli elaborati, nell'attribuzione dei codici a barra o nell'abbinamento dei codici a barra con i vari elaborati. Con la modalità in digitale invece tutto ciò è fatto in via completamente appunto automatizzata quindi anche il rischio pur potenziale perché ricordiamo che questo tipo di ricorsi è sufficiente il rischio appunto potenziale della violazione della regola dell'anonimato ancorché nel caso non si sia verificato. La potenzialità è già sufficiente per instaurare, promuovere il ricorso e avere anche una condanna per questo. Quindi con la modalità digitale tutto ciò è assolutamente superato proprio perché esiste tutto il sistema che viene utilizzato dell'applicazione della grittografia garantita la sicurezza di tutto il procedimento che già sarà stato illustrato nei precedenti interventi che garantisce appunto questa modalità che da una parte è più semplice ma dall'altra è anche più diciamo trasparente non perché prima non ci fosse trasparenza però la percezione della trasparenza, semplicità e trasparenza è più immediata. Quindi questo che cosa fa? Genera un circolo che direi virtuoso per cui la semplicità e l'immediatezza con cui si svolge l'attività di digitalizzazione della procedura in genera fiducia e quindi anche velocità e la fiducia fa sì che il numero dei ricorrenti che hanno interesse a portare avanti un contenzioso e praticamente diminuisce. Questo è chiaramente nella digitalizzazione abbiamo anche altri aspetti che fanno diciamo leva su un miglior randamento del contenzioso perché abbiamo non soltanto la velocità del risultato ma abbiamo anche la velocità della correzione automatizzata ma anche la velocità degli accessi agli altri è tutto talmente più veloce che i soggetti interessati possono accedere alle informazioni e quindi lì valutare se sia il caso o meno di intraprendere un'azione legale e questo lo fanno talmente veloce che una volta verificato che non sussisto che tutto è andato regolarmente eccetera evitano appunto di fare il ricorso. Ora vediamo infatti quindi vi ripeto semplicità dell'azione modalità chiara e evidente velocità, fiducia, riduzione del numero dei ricorrenti. Dai dati che abbiamo potuto così monitorare abbiamo notato appunto che abbiamo diviso in due blocchi innanzitutto i bandi svolti in modalità digitale con bandi svolti invece con la modalità analogica. Sostanzialmente vediamo che il numero delle cause relativa ai bandi, ovviamente il numero medio più o meno si equivale. Forse quello digitale c'è qualche cosa in più però non è quello il dato rilevante quanto invece il numero dei ricorrenti. Infatti vediamo che anche più o meno a parità di ricorsi il numero di ricorrenti scende in maniera consistente. Questo infatti nella modalità dei bandi svolti con modalità analogica ne abbiamo un 108,2 contro i 43,6. Ricordiamo che ci sono possibilità di effettuare ricorsi appunto per una moltiplicità di persone laddove il motivo di ricorso è generalizzato cioè comune a più soggetti. Questo è quello che accadeva esattamente per l'argomento, il motivo della violazione dell'anonimato che era appunto presente con la metodologia analogica mentre nel passaggio alla digitale questo motivo viene praticamente potete notare qui dei dati quasi completamente azzerato. Quindi è un dato cioè il dato è il suo stesso commento quindi se prima c'erano tanti numeri tanti ricorrenti che avevano questo notato o comunque volevano far valere questo tipo di motivazione ora nella modalità digitale questo è assolutamente superato. si ritiene appunto che sia veramente un dato molto positivo che testimonia come la parte digitale della modalità digitale della procedura sia un'ulteriore garanzia di imparzialità e di chiarezza di tutta l'attività svolta nelle procedure. Io avrei finito e passo la parola al collega Buonaventura. Grazie per l'attenzione. Grazie a Mariana De Vincentis per questo spaccato dal punto di vista ovviamente legale e giuridico di quella che è la mole concorsuale che Forman si trova a gestire e sappiamo bene che non è una mole diciamo di poco conto. A questo punto facciamo un attimo un passo indietro nel senso che ci ricolleghiamo all'intervento introduttivo quello di Vincenzo Testa perché all'interno del rapporto c'è un capitolo interamente dedicato alla questione delle rinunce della concorrenza della concorrenza tra candidature e a questo proposito io darei la parola a Vanessa Bosdari che ha gestito il coordinamento e la realizzazione proprio del rapporto Formez 2022 che ci parlerà proprio di questi temi di questi argomenti soprattutto alla luce di quello che è stato ultimamente insomma quello che è venuto un po' fuori da alcune uscite da alcune letture da alcune letture da parte letture mediatiche del rapporto stesso quindi la parola a Vanessa Bosdari Buongiorno eccoci qua allora come ha anticipato il collega vorrei fare alcune considerazioni sulla efficacia delle procedure di selezione e lo farò a partire da alcuni fenomeni che appunto come dicevamo sono stati sotto l'attenzione di tanta stampa ma anche dei soggetti principali che sono coinvolti nel processo di reclutamento e mi riferisco in particolare al fenomeno delle rinunce a quello della copertura dei posti o meglio della scopertura dei posti e al nuovo fenomeno della concorrenza tra le pubbliche amministrazioni quando si pensa ad un rapporto in genere si immaginano numeri si immaginano tabelle grafici percentuali ed effettivamente è quello che troviamo nel volume del rapporto dedicato al reclutamento ma a volte i numeri da soli non sono immediatamente intellegibili da soli non bastano a raccontare e spiegare un fenomeno e così dati che in prima fase sono negativi con una lettura più approfondita e una visione del contesto più ampia si può scoprire che quello che apparentemente o in prima battuta può risultare una criticità può invece offrire degli spunti e delle opportunità vediamo così nella slide successiva in quest'ottica vediamo appunto la slide divisa in due parti a sinistra abbiamo i numeri appunto e dall'altra parte vediamo invece il contesto un contesto che è stato già discusso nell'intervento iniziale ma che ci tengo a ribadire ci sono due elementi che hanno in qualche modo rivoluzionato il mercato del lavoro pubblico e mi riferisco allo sblocco del turnover in primis che chiaramente ha incrementato il numero di concorsi banditi nonché in parallelo il numero dei posti scusate l'incremento dei concorsi e chiaramente in parallelo il numero dei posti banditi allo stesso tempo anche il PNRR ha portato con sé dei fabbisogni aggiuntivi di personali necessari per l'attuazione del PNRR ma tornando ai numeri allora dicevo una rivoluzione dell'equilibrio del mercato del lavoro pubblico perché perché appunto si assiste ad un nuovo equilibrio tra domanda di lavoro pubblico e offerta di lavoro dove i concorsi hanno avuto il numero dei concorsi hanno avuto un'impennata mentre sappiamo bene che in Italia si è assistito nell'ultimo decennio ad una riduzione progressiva della natalità e quindi di conseguenza una contrazione del target di riferimento della pubblica amministrazione una volta c'erano pochi concorsi e migliaia di candidati oggi si assiste a una tendenza inversa e quindi avremo un rapporto tra candidati e posti banditi del tutto opposta a quanto si poteva guardare nel passato come dicevo andiamo a guardare un po' più attentamente i numeri che sicuramente a sinistra danno conto di un fenomeno che ha caratterizzato i tre concorsi sui quali ci siamo soffermati maggiormente che sono il concorso giustizia MEF 500 funzionari amministrativi concorsi del 2021 chiusi nel 2021 ora appunto i dati ci danno conto di questo fenomeno ma io vorrei invece pure l'attenzione su due elementi rilevanti che diciamo sono coerenti con quanto dicevo poc'anzi ovvero da una parte il fatto che a tanti candidati vincitori e rinunciatari per tanti candidati quasi più della metà dei vincitori che hanno rinunciato sono stati vincitori di altri sono risultati vincitori di altri concorsi e quindi questo ha consentito loro alla resa dei conti di poter fare una scelta hanno avuto un'opportunità di scelta tra molteplici amministrazioni pubbliche e questa scelta chiaramente è stata fatta secondo criteri di utilità soggettiva determinati dalla sede di servizio piuttosto che dal tipo di contratto offerto dall'amministrazione quindi la stabilità del rapporto o la remunerazione e il secondo elemento importante è che non si è assistito ad una fuga di candidati così come a volte si è letto nei titoli dei giornali perché come vedete nella parte inferiore a sinistra della slide i candidati che hanno vinto più concorsi di questi che stiamo analizzando sono rimasti nella pubblica amministrazione semplicemente hanno avuto appunto l'opportunità di scegliere quella che era la destinazione più confacente alle loro esigenze del resto questo è quello che è sempre accaduto nel privato quando immagino quando anche noi abbiamo cercato magari lavoro abbiamo inviato i nostri curricula a quanti più soggetti possibili e altrettanto sta avvenendo oggi nella pubblica amministrazione i candidati scelgono più amministrazioni alle quali mandare il loro curriculum un secondo fenomeno che vorrei analizzare è il fenomeno del questa scusatemi questa slide che adesso sulla quale non entro nel dettaglio per questioni di tempo è di supporto a quanto dicevo prima ovvero all'aumento del numero dei posti avvenuto negli ultimi anni al fenomeno delle pluricandidature nonché anche alla scelta di molti candidati di rinunciare magari al posto di lavoro perché la sede destinazione era a Milano e qui interviene forse il costo di vita di alcune aree geografiche e quindi necessariamente Milano Trieste Trento Torino possono essere scartate quali destinazioni possibili dicevo copertura dei posti ora anche in questo caso i numeri sono chiari i numeri ci dimostrano che effettivamente il 17,4% dei posti sono rimasti scoperti soprattutto su 10 concorsi del 2021 gestiti da Formez e Pia la maggior parte dei quali offriva contratti a tempo determinato ma cosa ci interessa rappresentare in questa occasione che l'efficacia dei concorsi in realtà è correlata alla natura del profilo ricercato anche questo è stato accennato in precedenza i profili dove maggiormente è mancata la copertura sono i profili specialistici quindi parliamo di ingegneri parliamo di architetti parliamo di statistici informatici e tutti profili che in passato si erano acquisiti ad un certo punto si era deciso di acquisire in outsourcing ora cosa ha determinato questo evidentemente un sovradimensionamento di quelli che sono i profili amministrativi e contabili un meccanismo che si è autoalimentato soprattutto a causa della logica della sostituzione in definitiva che cosa possiamo dire il sistema senza un'ampia analisi del contesto di riferimento senza un approfondimento di quelli che inizialmente chiamato numeri non si possono veramente capire le ragioni che stanno dietro alle decisioni dei candidati o dietro a ciò che gira attorno ad un concorso pubblico non si può confrontare mettere a confronto un concorso di oggi con concorsi della preistoria perché ormai di preistoria si tratta anche solo pensando a cinque anni fa sono sicuramente elementi da attenzionare quelli di cui vi ho parlato ma in una prospettiva in un'ottica positiva in un'ottica di miglioramento continuo e quindi forse bisogna parlare come già si fa in altri sedi più appropriate di una migliore comunicazione giovane capillare di una di una formazione adeguata le nuove esigenze nonché poi lo smart working è sicuramente un elemento trainante per aumentare l'attrattività delle PIA l'ultima slide di cui voglio solo accennarvi come vedete abbiamo sempre a sinistra il nostro campanello di riferimento che sono la mole enorme di candidati candidature posti messe a concorso che Formezze PIA ha gestito nell'ultimo anno e mezzo forse neanche un anno e mezzo volevo evidenziare l'efficacia delle attività di selezione che fanno parte del discorso nel suo complesso attività che sicuramente come diceva la collega che è intervenuta prima di me ha potuto garantire attraverso prove digitalizzate attraverso la territorializzazione delle sedi di esame il rispetto dei principi d'equità la gestione contestuale di più procedure una riduzione dei tempi delle procedure e così via questo lo dico perché a volte si è sentito parlare di flop di concorsi ma io non sono d'accordo come dicevo ci sono elementi da attenzionare da tenere presenti come stimolo per migliorarci ma il risultato nella maggior parte dei casi è stato portato a casa anche rispetto appunto all'efficacia delle attività vere e proprie gestite per le selezioni io mi mi fermo qui ringrazio per la partecipazione e passo la parola al nostro Domenico grazie grazie a Vanessa per questo approfondimento su questi temi che probabilmente come ha ben centrato sono stati anche un po' traviati da un certo punto di vista Vanessa faceva riferimento ai numeri ai dati ho segnato una frase che non sono i numeri non sono intellegibili ha detto prima ma servono comunque in un certo senso per come dire per segnare una via e per dare una indicazione una tendenza verso cui si va e chiaramente una tendenza che è quella che viene registrata ma che fotografa una strada verso cui si si procede ed è proprio di questo che ci parlerà il nostro Daniele Ferretti che è un sempre del centro studi e attività internazionali di Formez PA che ha contribuito anche alla stesura del rapporto Formez 2022 quindi la parola a te Daniele Sì buongiorno a tutti Sì buongiorno a tutti grazie Domenico e anche io appunto farò un intervento che si riferisce a quelli che sono i dati che abbiamo raccolto ed elaborato nell'ambito del rapporto Formez PA 2022 e cercherò di guardare a quello che appunto i dati ci dicono specialmente relativamente alle caratteristiche dei candidati con un duplice sguardo da un lato quello di cercare di capire quello che è realmente accaduto in questo anno e mezzo quindi per quel che riguarda i bandi di concorso pubblicati nel 2021 e nei primi sei mesi del 2022 quindi parliamo appunto di 124 bandi 257 profili e circa 40.000 posti e ben 641.000 candidati e unici ai concorsi su oltre 2 milioni di candidature ma allo stesso tempo cercherei di guardare con uno sguardo prospettico guardando al futuro perché in fondo questi dati ci dicono non solo quello che è accaduto adesso ma ci dicono anche quello che presumibilmente accadrà nelle pubbliche amministrazioni chi sono le persone che un domani andranno a lavorare dentro dentro la PA e quindi questo è un po' l'intento del mio intervento e inizierei questi ragionamenti a partire da alcune variabili di riferimento che negli interventi che mi hanno preceduto sono state anche in parte accennate la prima è sicuramente la variabile territoriale una premessa importante da fare è che sicuramente questi dati e queste riflessioni non possono essere generalizzate a quello che accade nella PA2CUR ma si riferiscono sostanzialmente a quello che è quello che è l'esperienza appunto di Formez e ai dati che prima ho citato il primo aspetto appunto è quella variabile territoriale da dove qual è la regione di provenienza dei candidati ai concorsi gestiti da Formez PA e sicuramente su questo emerge chiaramente uno squilibrio fra da un lato le regioni settentrionali e da un lato quelle centrali e meridionali in generale l'11,6% dei candidati è residente in una regione del nord questo significa che la maggior parte dei candidati proviene da una regione del centro e del sud e ci sono in questo senso alcune punte da segnalare come ad esempio il 18,7% dei residenti nel Lazio il 21,3% dei candidati residenti nella regione Campania il 15,6% di residenti nella regione Sicilia che cosa poi questo determina dal punto di vista dei concorsi sicuramente quello che è stato accennato prima ovvero una certa difficoltà a coprire i posti disponibili nelle pubbliche amministrazioni per quel che riguarda appunto il nord del paese e in questo slide sul lato destro sono state portate a riferimento alcune evidenze di un concorso il concorso giustizia per l'assunzione di 8.171 addetti all'ufficio del processo ecco è evidente come il tasso di copertura come a fronte di un dato medio del 120,4% di copertura dei posti e i dati se il dato nelle regioni del centro è più o meno in linea con il dato medio 117,5 c'è un dato ben superiore alla media nel sud dei isole 153% mentre nel nord la media scende al 74,5% quindi vuol dire che sono coperti sostanzialmente tre posti su quattro e se si prendono a riferimento alcuni alcuni tribunali che appunto erano oggetto della selezione si vede ad esempio come nei casi di Milano Trieste e Venezia la percentuale di candidati che era residente fuori regione è particolarmente alta parliamo appunto del 44% 30% per Trieste 24% per Venezia quindi questo è sicuramente un primo aspetto da considerare sicuramente i candidati dei concorsi sono prevalentemente afferenti residenti nelle regioni del centro del sud ci sono poi altri aspetti che vanno poi a configurare quello che è il mercato del lavoro pubblico di oggi e quelli che passeranno i dipendenti domani in primis la partecipazione delle donne che è molto elevata infatti il 58,3% dei candidati parliamo di 365.000 persone è donna contro il 41,7% degli uomini e questo è sicuramente un aspetto in continuità con quello che è la popolazione attuale della PIA anche i dipendenti pubblici attualmente di sesso femminile sono appunto il 58% quindi questo è un dato che presumibilmente si manterrà costante da qui ai prossimi anni ed è sicuramente un aspetto da tenere in considerazione per quel che riguarda anche dal punto di vista poi delle politiche e delle trasformazioni che investiranno nel mercato del lavoro pubblico altro aspetto importante è sicuramente quello dell'età dei candidati ad oggi i dipendenti della pubblica amministrazione che hanno meno di 35 anni sono circa il 10% ecco questo i dati che abbiamo rilevato delle candidature ai concorsi Formez ci dicono sostanzialmente come la maggior parte dei candidati abbia più di 40 anni e comunque anche la popolazione anche la popolazione di candidati con più di 50 anni è significativa perché è in quota del 6,7% tendenzialmente l'età media supera di poco i 40 anni questo è sicuramente un aspetto che avrà un impatto sappiamo appunto che oggi l'età media delle persone della PIA è di circa 50 anni quindi presumibilmente sicuramente nei prossimi anni ci sarà uno svecchiamento ma probabilmente non avremo ancora una popolazione under 30 adeguata per compensare questo gap generazionale che oggi è evidente altro aspetto molto importante è soprattutto quello della scolarizzazione dei candidati l'ha detto l'anticipato nel suo intervento Vincenzo Testa e oltre l'80% dei candidati possiede una laurea come titolo di studio ecco questo è sicuramente un aspetto altrettanto significativo e ci dirà appunto che la popolazione il personale della PIA sarà sicuramente un personale altamente competente molto specializzato e molto specializzato questa slide fa riferimento ad alcuni dati relativi a quelli che sono poi un confronto fra i candidati e gli idoni e vediamo che sostanzialmente il quadro che ho descritto rimane sostanzialmente analogo quindi chiaramente un'alta percentuale di donne che sono risultati idonee idonee ai concorsi pubblici una popolazione con un'età media leggermente inferiore rispetto a quella dei candidati quella degli idoni di 36 anni e sicuramente un 85% di idoni che è in possesso di una laurea magistrale e specialistica a conferma del fatto che la correlazione fra il titolo di studio e vincita dei concorsi pubblici viene confermata sicuramente però ci sono delle differenze se il dato medio parla appunto di una popolazione di una popolazione di candidati laureati sicuramente non per tutte le non per tutte le tipologie di laurea e comunque per le competenze richieste questo è vero e in particolar modo i dati che stanno rappresentati in questi due grafici fanno riferimento a quanto è accaduto per concorsi banditi orientati appunto alla ricerca di profili tecnici ingegnere architetto e informatico e statistico ecco in questa tabella si può vedere in questo grafico si può vedere come per alcuni concorsi c'è stata un'effettiva difficoltà di reperire i professionisti ricercati ad esempio il caso di alcuni concorsi come ad esempio i concorsi che hanno riguardato il MIMS il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili che oggi è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ma anche il Ministero dello Sviluppo i concorsi per il Ministero dello Sviluppo Economico che oggi è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy quindi questo è sicuramente un aspetto che va considerato pensando al futuro che sicuramente indica anche un gap che va colmato nel tempo io chiudo e ringrazio e ritorno e lascio la parola a Domenico grazie grazie Daniele per il tuo ottimo intervento io prima non ho ho mancato di ricordare che chiaramente la chat era a disposizione dei utenti ma vedo che insomma questo non è stato inutile perché avete scritto ci avete scritto in tanti innanzitutto ci ha scritto la nostra preziosissima stefania ricordandoci che i materiali utilizzati e la registrazione di questo webinar sono a disposizione da questo pomeriggio saranno a disposizione da questo pomeriggio al su eventi pa.formets.it nella chat trovate proprio il link a cui cliccare e poi volevo girare una una domanda una considerazione barra domanda questa la vorrei girare a Vincenzo Testa da parte di Corinna Fumo che scrive il formel soffre sicuramente delle opportunità importanti ma l'elevata formazione richiesta da un lato scoraggia i partecipanti soprattutto i giovani che non sanno dove recuperare i testi di studio dall'altro si cercano esperti per il PNRR ma di fatto nessuno ha modo di acquisire sul campo quella professionalità e infine il contesto delle pubbliche amministrazioni locali e deprimente un nuovo assunto preferisce rinunciare perché non è possibile lavorare a fronte di fenomeni clientelari e di forte inapplicabilità delle norme Vincenzo Vincenzo Testa ti giro questa questa considerazione della nostra ascoltatrice grazie soprattutto mi preme di rispondere comunque rispondere confrontarmi con voi per il dibattito che ho visto hanno suscitato queste considerazioni della dottoressa Fumo mi dispiace innanzitutto di sentirvi così demoralizzati demotivati non e consentitemi di invece ribaltare un pochettino questo senso di scolatezza sicuramente perché comunque la pubblica amministrazione ha bisogno di giovani di persone che vadano a lavorare all'interno delle amministrazioni degli uffici con entusiasmo con competenza con voglia di fare come credo abbiate tutti voi sono certo sicuramente le questioni sollevate hanno una loro fondatezza da un certo punto di vista e questa parte del rapporto che ha analizzato i dati sul reclutamento di Formez in quest'ultimo periodo ha messo in evidenza una serie di fenomeni che possono essere dibattuti siamo qui a dibatterne sostanzialmente allora che cosa ci evidenziano i nostri colleghi nel loro dibattito sostanzialmente che c'è sentono che esista un gap tra quello le competenze che loro posseggono e poi la modalità di selezione e i contenuti della selezione credo credo abbiate riscontrato questo in alcuni casi può essere vero però diciamo sicuramente si sta lavorando per innanzitutto a cosa è dovuto secondo me dipende secondo noi dipende da due questioni innanzitutto esiste un problema di comunicazione della pubblica amministrazione con i suoi target con chi vorrebbe che andasse a lavorare da lei sicuramente esiste un problema di attrattività della pubblica amministrazione se poi il sentiment dei candidati delle persone che vogliono lavorarci è questo quindi sicuramente si sta discutendo da questo punto di vista su quelle che possono essere diciamo così possono essere dei rimedi per questo difetto di comunicazione per far capire alle persone ai neolaureati o comunque a chi voglia mettersi in gioco o anche lavorando in altri settori o nella stessa pubblica amministrazione effettivamente qual è il contenuto dell'attività professionale richiesta da questo punto di vista sicuramente c'è tanto da fare nelle pubbliche amministrazioni per definire in maniera più appropriata i propri fabbisogni di professionali e per comunicarne i contenuti nell'ambito delle selezioni che vengono fatte e da questo punto di vista si discute anche sui modelli di reclutamento nel senso che comunque nella maggior parte dei casi ci troviamo di fronte a modelli di reclutamento universalistici che derivano da logiche di mera sostituzione del personale andato in pensione mentre invece la pubblica amministrazione ha bisogno di mettersi in gioco e di adeguarsi con i tempi che evolvono con l'innovazione tecnologica che è sempre un passo avanti e così via e quindi ecco lavorando sui modelli di reclutamento si discute ad esempio se magari possa essere più opportuno anche in relazione alla diciamo così carenza di profili più specialistici se possa essere più opportuno modificare i modelli di selezione e andare a fare selezioni più verticali più profonde sugli ambiti specifici di competenza delle professioni ricercate e poi andare invece attraverso dei corsi di formazione molto intensivi riuscire a contestualizzare gli ambiti gli ambiti amministrativi di riferimento quindi quello che diciamo intanto vedo che diciamo così la discussione sulla chat aumenta diciamo le questioni sono tante il problema è complesso intanto il fatto già che i problemi sono messi sul campo è un passo avanti per un'eventuale soluzione quello che è importante è che non perdete mai l'entusiasmo di voler lavorare all'interno della pubblica amministrazione grazie sì sì grazie grazie vincenzo grazie grazie a te e grazie chiaramente a tutti gli utenti che stanno come dicevi tu poco fa portando avanti un dibattito anche di una certa levatura però a questo punto vorrei vorrei spostarmi un attimo sull'intervento della dottoressa De Vincentis di poco fa insomma di prima per sapere da lei proprio riguardo ai temi che ha trattato e riguardo alla regola dell'anonimato in quale fase in quale fase procedurale ha inciso maggiormente la violazione proprio della regola dell'anonimato prego dottoressa diciamo che dal monitoraggio effettuato sempre nei dati come sopra come abbiamo detto nel precedente intervento si è rilevato una maggiore incidenza di questa motivazione nelle fasi preselettive ma così però anche nella parte produttamente selettiva c'era questa possibilità la differenza l'aumento diciamo il numero maggiore nella fase preselettiva credo che sia dovuta essenzialmente al fatto che vi erano più partecipanti cioè nelle candidature nella parte preselettiva sono sicuramente maggiori rispetto ai partecipanti delle fasi più propriamente selettive quindi della parte scritta e poi successivamente della parte successiva dell'orale questo perché sono ammessi nella fase selettiva un numero non tutti quelli che hanno preso il 26 la sufficienza eccetera il 21 i trentesimi scusate ma tutti quelli che hanno riportato un certo punteggio i cosiddetti migliori di quella fase sono sicuramente migliori sono sicuramente più numerosi quindi hanno un interesse a vedere almeno avere la possibilità la chance di partecipare alla prova selettiva e quindi magari con un cautelare riescono ad ottenere una missione con riserva e poi insomma diciamo in qualche modo si giocano la possibilità e il risultato se va bene vanno oltre e vanno nel merito andavano oltre nel merito altrimenti finisce lì e il contenzioso andava a morire però direi essenzialmente nella presa selettiva risposta quindi grazie a lei risposta molto secca e puntuale siamo ai saluti finali volevo chiedere molto velocemente a Vincenzo ma veramente telegraficamente se possiamo salutarci sulla sulla promessa di un rapporto Formez 2023 o no sì ci stiamo lavorando stiamo programmando quindi sicuramente anche visto le soddisfazioni che ci sono state saremo qui anche l'anno prossimo per per discuterne insieme a chi vorrà esserci grazie grazie a tutti per la partecipazione grazie per il contributo che sempre avete dato grazie 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 anche da parte mia per la partecipazione al quarto di questo ciclo di webinar relativi al proprio all'approfondimento dei temi trattati dal rapporto Formez PA 2022 e noi vi diamo appuntamento ovviamente ripeto la la disponibilità dei materiali da oggi pomeriggio su eventipa.formez.it e chiaramente l'invito a seguirci su formez.it e sui nostri canali social grazie a tutti e arrivederci grazie a tutti